Siamo qui a San Francisco dove dicevo a Manola di fare un attimo una manovra con la macchinina turistica e gli ho detto non andare addosso a quegli idranti che stanno per terra perché fanno uno schizzo e lei mi ha detto no sono sui film, è tutta una cosa dei film ha lagato giù anche il ciborio brava Manola, bella manovra